Allora raga siamo a Brooklyn Drift, è un delirio raga, è tutta piena la lobby, c'è un bordello di gente e sembrerebbero tutti bravi, quindi vediamo di fare un po' di twin o tandem perché guardate in quanti siamo! Ho provato qui su due minuti, sembrerebbero veramente tutti bravi, quindi noi ci divertiamo! Allora la sensibilità al freddo è lucidante! Adesso mi affianco anch'io, ma la passano più qua, metto in mezzo! La mette lancata! E alla confora ragazzi siamo abbastanza veramente piena! Eh, sono bravi eh! Lo fanno sembrere facile, ma ti dettimi che non vedo niente! Purtroppo mi raccomporti! Oh, un passo contro mano! Oh, un passo contro mano! un passo contro mano! Nulla, buona, mamma mia, consiglio! Allah, mamma mia, cosa stai facendo! Ma è divertente quando è così, ma si diverte! guarda che è l'acqua di qua guarda che è l'acqua 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 Comunque avevamo detto che eravamo fatti gravi eh Non sbaglio nessuno eh Però speriamo che non sbaglio che io non ho Mamma mia guarda qua E' troppo divertente quando si spisci così Aiuto non lo spianca bene Aiuto non lo spianca bene Mamma mia che lobby ragazzi Non lo spianca bene La stessura si vede qua dura fin quando uno dei tre non sbaglia Scusate se a volte parlo poco ma davvero concentrato Ora si faccio il pelo Alla prossima pulpa 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 Difficilissimo Alla prossima pulpa Non sbaglio nessuno eh Questa pulpa Come va No Alla prossima pulpa Zio Potrà abituato E C'è un'ansia assurda. Un'ansia assurda, un'ansia assurda, un'ansia assurda, un'ansia assurda. Un'ansia assurda, un'ansia assurda, un'ansia assurda. 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 troppo forte basta ragazzi dai è stato davvero divertente per volete altri video del genere fatemi sapere nei commenti mi raccomando like e seguitemi ciao 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 ciao